Vittoria importante per il Borgia nel confronto contro il comprensorio Archi, un 3-0 che mette la squadra del Presidente Lapiana in vantaggio proprio negli scontri diretti e apre le possibilità di arrivare alla zona play-out, quella che sembrava tanto lontana. Siamo con Daniele Leone che sostituisce da tre settimane il mister in panchina, il mister Maurizio Magro squalificato. Intanto è una vittoria importante e adesso si può guardare al futuro con più fiducia. Sì, è stata una partita sicuramente che ci dà la speranza di poter raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Brucia non aver vinto le altre partite perché durante la settimana ce lo andiamo sempre bene, diamo sempre il massimo, sempre costanti. Lo dimostra il fatto che all'allenamento siamo più di 20-25 ragazzi quindi la voglia da parte nostra c'è tanta. È una partita che lascia di siderare a sé perché abbiamo fatto tre punti però ancora c'è un campionato da giocare, un girone di ritorno. Quindi già da domani penseremo alla prossima e il risultato ci ha fatto bene per questa settimana. Diciamo che da quando siete riusciti a recuperare alcuni giocatori importanti tipo Alfieri, tipo Mellace e con l'acquisto di questo nuovo ragazzo che è venuto dal Catanzaro avete un pochettino assestato la squadra e adesso siete già la seconda vittoria consecutiva in casa. Sì, sì, questo sicuramente ci hanno dato una mano in più però senza nulla togliere i ragazzi che c'erano già perché abbiamo recuperato anche gente come Saverio Pilò che è mancato tantissimo al nostro gioco, alla nostra squadra in generale. Alfieri che oltre alla sua grande esperienza ci sta dando una mano in tutto e per tutto, soprattutto nello spogliatoio, questo merito ai ragazzi. Un grande acquisto anche quello di Maggiore che piano piano si sta integrando nel gruppo e come vedete già dalle prestazioni che sta dando sta facendo molto bene. E per nominare anche qualcuno, Ambrogio che ha fatto quel lancio alla fine, però nominiamo tutti, dobbiamo nominare e dare merito sicuramente a Velio Passafaro che con la sua tripletta vi sta portando in alto, nelle posizioni, diciamo in alto rispetto a quello che eravate prima. Di certo non le scopriamo oggi le qualità di Velio quindi sappiamo un po' tutti che tipo di giocatore è. Con la tripletta di oggi ha dimostrato per l'ennesima volta quanto possa valere questo ragazzo, quanto si allena, possiamo assicurare tutti che è uno dei primi e l'ultimo che se ne va e quanto voglia ancora di giocare in questo campionato e di mettersi in gioco nel ginone di ritorno che è tutto ancora da conquistare.